Sono in un bosco vecchio, in un bosco piuttosto stagionato perché lo si può vedere dalla consistenza e dallo spessore di questi abeti. Questo abete è secco, è essiccato, in cima è stato troncato molto probabilmente dal vento perché infatti la chioma non c'è più ovviamente, quindi è anche un pericolo. Però mi sorge un atroce dubbio, vorrei vedere se si riesce a risolverlo insieme. Come si vede ci sono dei funghi parassiti, funghi di legno. Questi funghi sono stati la cagione, la causa della morte della pianta o semplicemente hanno attaccato la pianta quando essa era già morta? Io propendo per questa seconda versione. In poche parole i funghi di legno sono cresciuti sopra a una pianta che già era morta.